Sebastian Vettel su Red Bull vince il Gran Premio di Germania davanti a Raikkonen. Alonso ha dovuto fare una gara di attacco e finisce al quarto posto, mentre finisce subito fuori dai giochi massa per testa vuota. Hamilton quinto e sesto button. Cambio gomme disastroso per Mark Webber, dove è stato fatto ripartire quando i meccanici stavano ancora fissando la ruota posteriore destra, quindi è stato impossibile evitare il distacco della gomma che ribalzando nella pit lane è andata a colpire uno dei cameraman presenti nella corsia dei box. Comunque dai controlli fatti al centro medico sembra che non abbiano riscontrato niente di grave. Per la prova di questa gara Alonso ha accusato la Ferrari per aver sbagliato strategia nelle qualifiche e aggiunge che dovranno migliorare molto anche per la pole in Ungheria per stare davanti a Vettel.